un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo ci troviamo proprio nel luogo dove padre pio qui si tratteneva quotidianamente e veniva lasciato da solo dai frati perché si raccoglieva in preghiera molte persone molti devoti lo lo intravedevano proprio dalla chiesa che lui era qui in preghiera dinanzi a questo bellissimo mosaico di della madonna delle grazie in questo luogo perché vogliamo raccontarvi quello che padre pio scriveva nel 1917 a padre benedetto mio carissimo padre gesù sia mai sempre nel mezzo dell'anima vostra per sempre più infiammarla nel del suo grande amore che è la più degna e desiderabile benedizione del vostro spirito comincia sempre così padre pio o quanto è buono il dio mio carissimo padre è vero che egli è buono con tutti ma particolarmente dio è buono con tutti coloro che si sforzano di amarlo le tribolazioni sono più preziose del loro e del riposo alle anime amanti di dio molto felici saranno queste anime se costantemente persevereranno migliore e un'ora nei portici di dio che mille milioni nei gabinetti dei peccatori ora io mi vado dimandando mi trovo ancora io in questi sacri portici di nostro signore oppure nei gabinetti dei peccatori la risposta non sorge spontanea il timore il tremore mi pervadono tutto se do uno sguardo alla mia vita passata e presente inchino a credere di abitare nei gabinetti dei peccatori e questo pensiero è un mirattrista mi fa sentire una forte stretta al cuore e allora ditemi per carità padre colgo io nel segno dell'inchinare credere come sopraddetto è vero è vero che ho anche motivo di credere di stare nei portici di dio quali appunto sono i desideri costanti ed invariabili dell'anima di santamente pretendere di congiungersi col suo dio la maggior parte ancora della dimora che a quest'anima fa nel sacro monte del carvario ma perché allora l'anima non si inchina più a questa parte che fin fine per lei sarebbe più di sollievo a me padre mio che caos che caos via nel fondo di questo mio cuore che mistero io sono a me stesso